... Oggi abbiamo scelto come sede la nostra protesta l'ufficio tecnico del 13esso municipio a Ostia. La nostra protesta consiste nel sensibilizzare l'amministrazione comunale, cioè il sindaco Gianni Alemanno contro la produzione dei vicini urbani per garantire trasparenza e imparzialità del rispettamento delle funzioni di istituto, come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Noi chiediamo alla nostra richiesta del trasferimento periodico da un municipio all'altro ogni tre anni dei dipendenti della Polizia Municipale, perciò vigili urbani e dipendenti appartenenti agli uffici tecnici territoriali per garantire appunto, ripeto, il principio di trasparenza e imparzialità del rispettamento delle funzioni. Abbiamo scelto come simbolo territoriale della nostra proletta l'Ostia, cioè di questo municipio, perché le nostre segnalazioni che ci prendono sono più numerose appunto da parte dei cittadini di questo municipio, di questo territorio e abbiamo un motivo di credere appunto che il fenomeno sia in qualche modo presente. Chiaramente la nostra battaglia si rivolge a quelle mele marce che si annidano in questi uffici, appunto dalla Polizia Municipale e degli uffici tecnici, per quelle poche mele marce, però vanno a edificiare la buona immagine di tutto il corpo della Polizia Municipale e il dipendente appunto degli uffici tecnici comunali, di questi comparti lavorativi. Perciò noi non possiamo prescindere da questa soluzione per poter garantire appunto la liceità nell'esplodamento delle proprie funzioni di questi comparti professionali e questa garanzia della tutela dei cittadini e perciò dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge per garantire, preservare i cittadini stessi dal pericolo di omissioni o abusi in ufficio e non siamo non certo a dirlo. È la cronaca, la cronaca che spesso ci rimanda problemi di questo tipo, fenomeni di questo tipo. Noi chiediamo, ripeto, il trasferimento periodico ogni tre anni da un municipio all'altro, trasferendo un'unica municipale dei dipendenti degli uffici tecnici e dei vigili urbani. Questa è una nostra battaglia avanti già da un anno e mezzo, stiamo protestando contro il silenzio, il posto opposto a noi e alle nostre teste dal sindaco Gianni Alemanno che aveva demandato la questione all'assessore al personale Enrico Cavallari che però dopo essere stati ricevuti appunto dal capo della sua segreteria ha opposto sempre questo silenzio. Perciò contro il silenzio delle istituzioni noi continueremo le nostre proteste. Abbiamo deciso di andare avanti con questa nostra protesta, lo faremo fino a quando l'amministrazione comunale non aprirà un tavolo di concertazione, perciò noi li verremo responsabili appunto il sindaco Gianni Alemanno e tutta la giunta comunale quindi responsabili politicamente eventuali abeati di questo tipo di rapporto speciale che verranno perpetrati ai danni della pubblica amministrazione, ai danni dei cittadini e da dipendenti appunto di questi comparti territoriali. Chiediamo perciò al sindaco Alemanno di incontrarci, di ascoltarci su questa cosa. Abbiamo già incassato diverse opinioni positive in merito a questo, per esempio da parte del Presidente del Centro Municipio Giacomo Zani il Presidente del Centro Municipio Sandro Medici e dal Vice Comandante Generale che a nome del Comandante Generale Angelo Giuliani, il Vice Comandante Diego Porta aveva detto che ci aveva assicurato che per quanto riguarda loro una situazione del genere poteva essere condivisibile magari per quadranti territoriali. Per quanto riguarda noi non si può prescindere da questa soluzione per poter garantire finalmente la salvaguardia appunto anche e soprattutto del corpo, del corpo del Polizio Municipale e anche tutti coloro i quali sono impegnati a fare il proprio dovere di una pregazione e consenso sicuramente delle istituzioni. Non è possibile che il lavoro di queste persone, della maggior parte appunto appartenenti a questi comparti lavorativi, venga inficiato e messo in discussione da quelle poche melemance che si lasciano andare a fenomeni di corruptene, perciò corruzione e concussione, omissioni dati d'ufficio e illeciti di vario tipo.